Grazie a tutti. in aria, specialmente con le intercittà, inizialmente, è una proposta del genere che stanno attivando molto in difficoltà, ora vi ho dimostrato, tanto gravata e tanto l'estate, tanto voglia di riportare a casa di città, basta con loro contenuto per comportare di più po'. Ora, ma sappiamo che noi siamo arrivati a questo puntamento, nella prima fase di caratteristica, con gli stessi problemi di regolamenti, da qui, sono assolutamente molto contento del proprio di Gimari, che è un'altra parte, io l'ultimo mezzo non dov'è dire che è una partita, quindi, le altre politiche di fronte, siamo arrivati, diciamo, in protezione, piano piano, con le vittorie di quanto il problema io ho. Ma è un'agrazione tra quelle di partenza, il campo di cancello più grosso, il suo campo come la misura, il campo di cancello più grosso, il campo di cancello che vogliamo fare bene su tutti i campi, quindi inizialmente i campi, per cui, io penso che anche noi, diciamo, una brutta testa del contatto, noi dobbiamo dimostrare due di gioco, due difficoltà, perché ci sono una brutta testa del contatto, ma anche noi dobbiamo dimostrare due di un'agrazione tra le cose, perché ci sono scritte dei nomi molto alto, alcuni noi dobbiamo dimostrare, all'agrazione di più, e quindi, grazie a tutti, siamo passati a tutti, quindi, sicuramente, ci sono andate, perché, non è un problema di fare l'orità di amicare un po' veramente molto molto importante. Grazie a tutti.